Siamo qui parlando di basket, il Teramo Basket. Il basket è uno sport interessante, ma nel Teramano un pochettino è calato questa cosa? Sì, negli ultimi anni, dopo anni fantastici, c'eravamo noi, c'era il Roseto in Serie A che era un caso unico in Italia, c'erano anche altre squadre di Serie B, c'è stato un calo che è un po' generalizzato, però c'è buona volontà, quindi quando c'è un terreno fertile magari si può poi ricominciare a fare delle belle cose. E a questo punto come è possibile ripartire? Da che posizioni a partire? Da giovani ma soprattutto da qualche società che sia disposta a prendere giovani? Sì, giovani sono sempre l'anima di tutto e soprattutto dello sport, quindi assolutamente sì, bisogna fare sistema, bisognerebbe creare un gruppo che possa avere la voglia, l'interesse di creare un movimento anche di eccellenza, perché bisogna puntare sempre in alto. Non è facile, però bisogna provarci. Grazie.